bello poi anche non chiudere l'ultimo l'inspiration è praticamente una mutazione tra un giurassico e qualcosa molto contemporaneo come un cyborg, quindi ho cercato di combinare il D.N.A., il suo D.N.A., e l'exprimento di questa nuova creatura, una creatura supernaturale, naturalmente perché è venuto dal passato, con una luce vegetazione che è un tipo di inspirazione per i printi, per esempio, vedete un tipo di grafico, digitale, un tipo di plumaggio, ma è completamente rinnovato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.